Buongiorno Davido, questo weekend l'X-verso, ma anche Hacker News, ma anche Reddit, è stato popolato dalle discussioni attorno a un tweet, o come si chiamano adesso, i post, gli Xs, insomma un tweet dell'utente che si chiama Santiago, o con handle svpino, lo trovate su Twitter, su X, insomma svpino, un post che parla di Scrum e in maniera molto delicata parte con Scrum is a Cancer, forse è una citazione, che all'inizio non gli avevo dato tantissimo peso, però poi questa discussione è montata, insomma se ne parla tanto, a me questi post fanno un po' sorridere, perché tornano ciclicamente, ogni tot ritornano dei post, dei rant contro Scrum, perché è un disastro, perché non va bene, perché ci fa lavorare male, ci fa lavorare peggio, quanto stiamo male con Scrum? E questo lungo post contiene nove ragioni per cui Scrum è sbagliato e fa perdere tempo e non fa lavorare correttamente i sviluppatori, con ragioni molto pensate, molto sentite, come hanno cercato di convincermi che poker è un planning tool e non un gioco, questa è una motivazione per odiare Scrum, un'altra è ho dovuto usare le misure delle t-shirt per stimare il software, che è una cosa molto grave, oppure che a un certo punto la compagnia ha cercato di vendere pacchetti di story point, quindi pacchetti da 500 story point e poi ci sono arrabbiati quando hanno saputo che 500 story point su un progetto non sono 500 story point su un altro progetto, insomma cose di questo tipo, per tutto questo Scrum è brutto, però Agile è bello, quindi Agile molto bello, Scrum molto brutto, perché story point, che mi raccomando non sono una misura del tempo, ma sono una misura della complessità, però l'azienda vende tempo, e quindi questa idiosincrasia che porta questo sviluppatore a scrivere un rant contro Scrum corredato proprio da un'immagine con un testo bianco su nero, stop doing Scrum, e ripeto mi fanno sorridere perché ogni tanto cicciano fuori, c'è anche un sito mi sembra tempo fa, smettete di usare Scrum, odio Scrum o qualcosa così, e tutti questi peccano secondo me di una parte fondamentale del discorso, che a me è stata inculcata fin dalle prime volte in cui mi hanno spiegato che cos'è Scrum e perché avrei dovuto usarlo, cioè il fatto che Scrum sia un framework, come noi siamo abituati a usare React per esempio nel modo in cui più ci è utile per il progetto che stiamo realizzando, con le librerie che più ci sono utili, con i pattern che più ci sono utili, un po' come ci pare, perché appunto la natura di React è quella di essere un framework che ci consente di prendere le cose che più ci piacciono, ecco Scrum è la stessa cosa, va adattato al contesto, al team, al progetto che stiamo facendo, da una serie di strumenti per gestire un progetto che sono alternativi alla gestione malata, classica, di un progetto waterfall in cui avete un budget e una deadline, cavoli vostre, arrivate alla fine nel modo in cui più vi aggrada, ecco invece qua ci cerca di formalizzare un processo un pochino più strutturato che aiuti a capire dove ci si trova nel punto del completamento del progetto, aiuti il team a capire appunto quanto è l'effort complessivo che ancora rimane e quanto è difficile appunto quello che si andrà a sviluppare. Insomma, per farla breve, non sono d'accordo con questo post, mi fa sorridere che ogni tanto rivengano fuori posti di questo tipo e scalino le classifiche di Iker News e quindi tutti si rendono conti improvvisamente che ah, fermi tutti, anche secondo me Scrum fa cagare, ci sono grossissimi problemi con Scrum, smettiamo di usarlo, e vabbè, volevo riportarvi questa mia scoperta del weekend a questo punto, partiamo con le news di oggi. Oh, allora, partiamo da OpenTF, che forca, Terraform. Come avevo raccontato nel recappone delle news estive, AsciCorp ha cambiato la licenza dei suoi prodotti e in particolare di Terraform passando alla BSL, o meglio BUSL, cioè Business Source License, che è una licenza che consente di accedere, di distribuire il codice sorgente di questo software ma non di usarlo per scopi commerciali, quindi chiaramente questa non è una licenza open source e quindi la community si è abbastanza incacchiata. E come dicevo, riguardo a Terraform era stato creato un manifesto, questo OpenTF manifesto, in cui si chiedeva ad AsciCorp di riconsiderare la decisione e di fare marcia indietro, altrimenti ci sarebbe stato il fork dell'ultima versione open disponibile di Terraform e poi il gruppo avrebbe proseguito in autonomia. Vi leggo qui l'articolo da The Register, la dichiarazione del gruppo che è arrivata venerdì scorso. Poiché non è stata fatta alcuna inversione e non è stata comunicata l'intenzione di farla, siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo creato un fork di Terraform chiamato OpenTF. Molti ingegneri di diverse aziende, a volte anche concorrenti, hanno lavorato insieme nell'ultima settimana per rendere questo possibile. Quindi OpenTF tornerà alla MPL, o perlomeno continuerà ad esserlo, prosegue con la dichiarazione, ci piacerebbe concedere la licenza del progetto sotto Apache 2.0, ma la MPL non è compatibile con essa, quindi rimarrà MPL appunto. Questo l'ha detto Sebastian Stadil, che è il co-founder di Scalar. Su Aker News, Ohad Mejlish, che è il founder di EnvZero, che è una delle aziende che sostiene il gruppo, ha sottolineato che il gruppo dietro OpenTF ha contribuito a costruire l'ecosistema Terraform per AsciCorp. E quindi queste sono le sue dichiarazioni. Volevo ricordare che EnvZero ha apprezzato la gratuità di Terraform, ma ha anche contribuito all'ecosistema Terraform. Ha detto, citando come esempi, progetti open source TerraTag e un podcast educativo sul software. E questo mi pare un altro aspetto a volte poco considerato nei discorsi che si fanno sull'etica del cambio di licenza. Cioè un prodotto come Terraform, in questi anni, in cui è stato open source, non ha goduto solamente del supporto upstream dei programmatori che hanno contribuito alle sue feature e alle sue pesce di sicurezza, ma ha anche tutto un impegno di divulgazione, di documentazione, di evangelizzazione. Pensate ai blog post, ai video su YouTube, alle conferenze in giro per il mondo. Ecco, questi sviluppatori di diverse aziende hanno parlato di Terraform. È un prodotto di AsciCorp. Se fosse stato closed source avrebbe avuto la stessa eco? Ovviamente no, è un po' qui il punto. Cioè la community ha permesso a Terraform di essere quello che è oggi. E il fatto che AsciCorp se lo riprende, da un certo punto di vista, per sfruttarlo commercialmente, sembra un altro di quei processi di encitification, di cui varie volte abbiamo parlato, e che spesso riguardano investitori che non si fanno troppi problemi a tradire la fiducia dei consumatori e dei consulenti per un'ipotesi di guadagno futuro. Peraltro l'articolo nota come in passato ci sono stati esempi simili, come il caso di Hudson, che venne acquisito da Oracle e che fu eclissato dal suo fork open source Jenkins. Detto questo, i lavori per creare un fork pienamente funzionante e sostituibile drop-in con Terraform procedono, quindi trovate l'annuncio ufficiale sul sito di opentf.org, opentf.org slash announcement, che fondamentalmente contiene tutto quello che abbiamo detto finora, e importante, il repo su GitHub, su OpenTF Foundation, su GitHub, questa organizzazione, trovate il repo presente. Al momento l'unico, diciamo, degno di nota è manifesto, che contiene appunto il sito di OpenTF manifesto e il manifesto stesso. Potete magari starrare questo repo per lanciare un segnale, ecco, per far capire anche ad HashiCorp come stanno messe le cose. E ovviamente noi saremo sempre qui a seguire questa vicenda molto calda. Oh, continuiamo a recuperare delle news estive. Questa è del 21 agosto ed è l'attesa quotazione alla borsa statunitense, quindi al Nasdaq di Arm. Sapete che Arm è un'azienda che ha sede a Cambridge, in Inghilterra, il cui business principale è creare i design di processori basati sull'omonima architettura RISC. Infatti Arm sta per Advanced RISC Machines e poi li vende in licenza a produttori come Qualcomm, Samsung o NVIDIA, per fare i nomi più noti, insomma, che sulla base di quei design creano i propri chip custom. Allora, segnalo un trittico di post su The Register. Nel primo del 23 agosto si mette in dubbio la valutazione prevista dai proprietari di Arm, cioè la holding di investimento giapponese Softbank, che starebbe cercando di ottenere una valutazione dell'azienda di circa 64 miliardi di dollari, che sarebbe il doppio di quanto aveva pagato per acquisire Arm nel 2016. Ma l'articolo, appunto, solleva dubbi sul fatto che questo sia realistico. Secondo il Financial Times, infatti, viene riportato, il valore di Arm, valutato in base a un multiplo medio degli utili del settore, si avvicinerebbe a 30 miliardi di dollari, ovvero quanto Softbank ha pagato per l'azienda. In ogni caso, prosegui questo post, non è chiaro quante azioni Softbank metterà in vendita. L'azienda ha sempre indicato che Arm continuerà a essere una filiale controllata da Softbank, il che implica che intende mantenere una partecipazione di maggioranza. E quindi, anche chiunque entrerà nell'azionariato di Arm, e i nomi di produttori che ho fatto prima sono tra quelli che si pensa che investiranno, anche per proteggersi dalle azioni dei competitor, ecco, questi dovranno comunque fare i conti con Softbank, che potrebbe rimanere al comando. In un secondo articolo di The Register si parla, invece, dei documenti che Arm ha dovuto depositare a corredo della sua offerta pubblica. L'atteso deposito alla SEC, che è appunto l'agenzia statunitense che vigila sul mercato, il deposito di questa settimana, ha fatto molto più che descrivere l'imminente IPO. Infatti ha rivelato quanto il progettista britannico di CIP sia preoccupato dalla prospettiva di essere escluso dalla Cina, dal mercato cinese. Infatti trapela che Arm sia preoccupato dalla trade war con la Cina. Trapela naturalmente da questi documenti, perché sapete che quando un'azienda vuole quotarsi, deve depositare alla SEC una serie di documenti a corredo di questa quotazione. E sapete che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno da tempo queste regole molto stringenti sugli scambi commerciali con la Cina. Ebbene, una gran parte del fatturato di Arm viene proprio da lì e i vertici dell'azienda esprimono una certa preoccupazione che questo possa danneggiare il loro business. Ci sono nello specifico delle leggi che riguardano l'esportazione in Cina di tecnologia con potenziale militare, che richiederebbe l'ottenimento di licenze di esportazione per certi processori, per esempio le CPU di fascia più alta nella serie Neoverse, che superano le soglie previste dai controlli e quindi sono soggette a queste limitazioni. Ricordo che i Neoverse sono processori ad alte prestazioni nati nel 2019 per competere con gli Xeon di Intel e gli Epic di AMD nei Data Center e la versione, attualmente la versione più potente, è usata nelle CPU Grace di Nvidia. E quindi se la politica di US e UK è di limitare gli scambi di tecnologia con la Cina, nel senso inverso è la stessa cosa, cioè la Cina promuove una politica di sovranità tecnologica, diciamo così, e punta al 70% di autosufficienza nei semiconduttori entro i prossimi due anni. Quindi molti grossi clienti di ARM potrebbero rivolgersi al mercato interno. E la situazione è ulteriormente complicata dal rapporto di ARM con ARM China, che nonostante sia un canale essenziale per fare affare nel paese, è anche un'azienda che opera in modo abbastanza indipendente. ARM China ha attraversato una fase in cui è stata gestita da un amministratore delegato che ARM voleva licenziare, ma per un certo periodo non ha potuto farlo, fino a quando questo dirigente non è stato allontanato e costretto ad andarsene. Nei documenti si legge proprio questo. ARM China potrebbe anche non rispettare le leggi e i requisiti normativi applicabili alla sua attività, il che potrebbe limitare la sua capacità di commercializzare o vendere i nostri prodotti nella Repubblica Cinese. Insomma, per tutte queste ragioni si addensano nubi cinesi all'orizzonte che potrebbero oscurare i buoni propositi della quotazione in borsa. Comunque in un altro articolo, quindi il terzo della triade di articoli di register su questo tema, questo è uscito ieri, viene descritto il nuovo Neoverse Compute Subsystems, che è CSS, che è basato sul design di Neoverse N2 che ARM aveva presentato due anni fa. Ed è una nuova serie di blueprint per nuove CPU core, che sono molto più vicine stavolta al design di un prodotto completo. Quindi normalmente il business di ARM è designare qualcosa che poi deve essere ulteriormente raffinato e personalizzato, invece questo design è più simile a un'architettura completa di una CPU. Neoverse è un prodotto che esiste dal 2018 ed è già prodotto su licenza da Amazon, NVIDIA, Ampere, Marvel e altri, ed è indirizzato primariamente ai data center. ARM ha dichiarato che i clienti adorano la piattaforma Neoverse, ma chiedono di non dover ogni volta reinventare la ruota e quindi ecco che apprezzano poter avere il design di una CPU completa. Poi nell'articolo ci sono un po' di specifiche tecniche, ci interessa però la stima sul market share dei processori ARM nei data center, che un report di Bernstein Research stima circa il 10%, quindi il 10% di tutti i server mondiali girano su CPU basate su ARM e il 40% circa di questi sta in Cina. E in ultimo che proprio le sanzioni statunitense potrebbero essere alla base della decisione di lanciare i Neoverse CSS con i Core N2 invece che con i più potenti V-Series, quindi che sono quelli alla base di AWS Graviton 3 e di NVIDIA Grace, perché come dicevamo appunto ci sono dei limiti sulle potenze nelle esportazioni. E in ultimissimo su questo argomento segnalo un articolo di The Verge che invece guarda la quotazione dal punto di vista della crescita della domanda per i chip per la AI. Leggo dell'articolo del 25 agosto che parla proprio di hype intorno all'AI. Sappiamo che il mercato mobile sta rallentando e che questo ha già colpito ARM, ma forse vale anche la pena di notare quanto sia impressionante la portata di ARM, qualcosa come 30 miliardi di chip all'anno utilizzano progetti ARM e questo va ben oltre i telefoni. Stiamo parlando di automobili per esempio, cloud computing, c'è anche l'IoT, ma si tratta di un business a margine relativamente basso e quindi poco importante. Un numero sempre maggiore di aziende, tra cui Google, Meta e Amazon, sta iniziando a produrre i propri chip, il che potrebbe significare un mercato più ampio per ARM e la vendita dei suoi progetti. Nel suo documento ARM osserva che molti produttori si stanno allontanando dai chip off the shelf, il che potrebbe rappresentare un'opportunità di crescita. Questo potrebbe mettere ARM in una buona posizione per beneficiare dei vari tentativi di competere con i CPI di Nvidia, ma è difficile vedere il futuro. Si tratta più di una questione di dove soffiono i venti che di come sia l'attuale attività di ARM. L'articolo è molto lungo e dettagliato, si parla un po' di tutto quello che abbiamo visto finora, quindi è una lettura interessante se l'argomento vi stuzzica. E sul finale, peraltro, si cita anche l'architettura RISC-V, che è un'architettura aperta. Di questa ne ho parlato poco qui, ma la sto seguendo con interesse, quindi ci torneremo sicuramente sopra. Comunque si profila proprio un competitor qui per ARM in RISC-V, anche se per ora i vertici dell'azienda non sembrano essere molto preoccupati. Lunedì è uscita sul sito di OpenAI la notizia del lancio di ChatGPT Enterprise. Ovviamente ne hanno parlato tutti, quindi scegliete la fonte che più vi piace per approfondire il discorso. Che cos'è ChatGPT Enterprise? Sostanzialmente è una versione di ChatGPT che protegge i dati dell'azienda che ne fa uso, quindi isolandola dal resto dello spazio utente di ChatGPT e ChatGPT Plus, per tutti quelli che non possono per policy condividere questi dati oppure sono semplicemente preoccupati da privacy e security. Infatti ricordo che ogni volta che interagite con il chatbot di OpenAI voi state mandando i vostri dati al modello, quindi entrano a far parte del modello, quindi questo va sempre tenuto a mente. Ci sono altre feature in ChatGPT Enterprise come la personalizzazione delle risposte in base ai dati dell'azienda e dei tool più avanzati di Analytics. Vi leggo un estratto dell'articolo di Ars Technica che ne parla. In una potenziale vittoria per le appassionate di sicurezza aziendale, ChatGPT Enterprise è stata certificata conforme al SOC 2, SOC sarebbe System and Organization Controls 2. che è un quadro di riferimento stabilito dall'American Institute of Certified Public Accountants, quindi IECPA, per la verifica dei controlli di un'azienda per la gestione dei dati dei clienti al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza, disponibilità, integrità di elaborazione e privacy. OpenAI non ha ancora annunciato pubblicamente il costo di ChatGPT Enterprise. Alla nostra domanda, dice Ars Technica, un rappresentante di OpenAI ha risposto dipenderà dal caso d'uso di ogni azienda. Chi è interessato dovrebbe contattare OpenAI per maggiori informazioni. Quindi questo era quello che sappiamo finora su ChatGPT Enterprise. Nelle prossime settimane arriveranno probabilmente altre news e quindi saremo qua a seguirle. In chiusura, un paio di annunci tecnici. Bugzilla festeggia i 25 anni di attività, sapete, il software open source per tracciare i bug, issue tracker, diciamo, che è stato creato nel 1998 originariamente in TCL da Terry Weissman per essere usato da Mozilla e sostituire il tool che era in uso in Netscape. È stato deployato su un server Mozilla il 6 aprile 1998, ma rilasciato come open source al pubblico il 26 agosto e in quel momento Weissman decise per un porting completo su Perl che terminò il 15 settembre. E con questo post celebrativo Bugzilla annuncia anche la creazione di una nuova entità legale per gestire il progetto Bugzilla che è un soggetto non profit che sarà indipendente, non gestito da Mozilla Foundation e si chiama Zarrobugs Corporation. Zarrobugs è chiaramente uno spelling errato di zero bugs ed è il messaggio che Bugzilla ritorna quando una ricerca produce zero risultati. Quindi si possono effettuare donazioni e contribuire al progetto anche attraverso GitHub Sponsor. Ricordo che Bugzilla non è stato usato solo da Mozilla, ma da molti progetti open source, per esempio il kernel Linux, Apache, LibreOffice o KDE. E ultimissimo sul blog ufficiale di Angular, Mark Thompson ha ricordato che Protractor è finalmente in pensione. Alla fine di agosto terminerà il periodo di LTS e alla fine di settembre va proprio in End of Life. Già si sapeva da un anno e Angular ha effettuato la transizione verso sistemi più moderni come Cypress e Playwright. Mi premeva però riportarlo perché Protractor è uno di quei software che mi ha fatto più bestemmiare, quindi sono un po' contento di vedere che finalmente è finita la sua era. Non è stato bello? Caro Protractor, non ci mancherai. E ci mancherà invece questa puntata del Buongiornissimo, ma se sarò bravo ce ne sarà un'altra domani, quindi grazie per avermi ascoltato fin qui. Fatemi sapere quanto odiate Protractor, quante azioni ARM comprerete, bevete responsabilmente, andate a vedere Openheimer e basta. Ho finito. Ciao! Grazie a tutti.